Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sarà falso, ma sarà falso. Antonello, tanto è falso, sbagli sempre. Oddio. C'è poco da ridere. La risposta è chigliottina. Peccato per Antonello. E invece no. Chiudo. Ma ho ammazzato qualcuno. Stranissimo finale, non finivano così le puntate di Air Force Security. Del più delle volte. Kalash, bentornato. Gamebear, Ricky, bentornati e benvenuti, boys. Benvenuti, bentornati. Ma io mi sono forse... Forse mi sono dimenticato. Io mi sono dimenticato di dimenticarvi, di non dimenticarvi, di ricordarvi che... Allora, per maestro sopra? No ragazzi, per maestro sopra non devo... Non c'ho i snack, porco Dio. Gianco fa una giocata senza senso. Adesso del merda. Non ce la fa. Non ce la fa. Direi Gianco. Gianco, direi Gianco. Ti ho spaccato di merda, negro. Te lo rompo qualcuno, negro. Non provare mai più nella tua vita a parlarmi, negro. Prova a farlo, negro, e ti ritroverai un palo in c***o, negro. Con il mio f***o Uzi, negro. Che cosa hai detto, negro? Vabbè ragazzi, però guarda, devo essere onesto, Tom, proprio in tutta la serie, è molto tranquillo, non l'ho mai visto così. Da fare finta, Neymar. Sei proprio una sanguisuga disgustosa, porco Dio. Ma guarda Marco, che fa il contrario. Alla squadra non ce l'è, la squadra non ce l'è, la squadra non ce l'è, la squadra non ce l'è, letteralmente è bersagliata da tutti. Troppo duro, sei troppo vicino qua. Oddio, è morto. Ragazzi abbiamo fatto la c***a posta. Marco è una macchina rampa, ed è fottuto. Ragazzi, ti con rispetto. Come con rispetto? Ma che rispetto? Ma che ti danno una botta in fronte, è un dodicesimo, è undi. Porco Dio, mo' lui, se lo rifai morirla. Marzo, porca d'orca! Eh perché sì, secondo te è di ocare! Ma guarda, ragazzi! Bella sta per la chilla. Io so, Dio merda, io so! Che c***o era Nintendo Switch Sport? Di ocare, l'unico che sa come si scrive Formula 1, ammette me non per c***o. Questo è molto semplice in realtà scriverlo. No, ragazzi! Mi giuro, non lo so a toccar, è bruttualmente mal... Ma che c***o, ma che c***o fai? E' fermo in mezzo alla strada! Ma che c***o è finito, raga? No, raga, bo... Vabbè, fuggi, fuggi, corri! Corri, scappa, c'è il Nemesis! Che c***o succede? Vola, 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 vola... No, vabbè, ma che io... Resta l'area dello spareggio! La tattica non ha funzionato. Dio, è la safe che si chiude piano piano. Vero dentro! Sono morti entrati. Tu moris di merda, porca d'orca! Mi ha visto il maestro, però! È scoperto! È spostato, viva, ma... Non ci credo! Ma c***o, ma c***o! Ma che bravo, c***o, ma non lo so, eh! Non lo so, eh! Che figa su di merda, porca dio! La vita a te te sorride proprio! Ma è schifo, paio! Però non è giusto! Ma è strano! Mi sono fatto meno... Adesso sta macchina, c'è il fisico mio! Gianco, guarda questa roba, Gianco! Fazzu, di testa, di testa, sei capace! C***o! È stato un bollo! Spingi la bestia! È fuori! Sei abboninevole! Prima sei voluto per molto meno! Che c***o abbiamo cucinato! Bravo! C'era Marco Eval che mi ha chiuso la spirale! Webbo! Guarda, Webbo, io a differenza di tanti altri, io sguinzaglio croari! Quindi è meglio se le smettete di fare queste cose! A me dimenticatevi! Trattate tutte le persone quelle, capito? Quelle che si bagnano le ragazzine, le bambine e tutto quanto! A me lasciatemi... La casa di periferia, al confine con la Scozia, è ora di colazione! Vuoi una colazione diversa? Con quale c***o di zucchero? Cavolo! E' dolce! Medusa, sesso! C***o, non una principessa! Caratino! Chi ha detto va a f***o? Davvero... Che è la spalle! Peggiorano! Ho notato un peggioramento dopo la morte! Poverino! Ehi! Ma che c***o! Ehi! Ehi! Sei gay? Oddio! Sono un gay! Tenetevi quel bidone! Lei è Rosy, tecnica con la C-Rosy! La prima a portare nelle case italiane la figa! E farà contento anche Marcel! Il primo italiano con 100 metri di minchia! Ma la più felice sarà la figa di Rosy! Sus! Aspirezza! Scegli la figa! Scopo nei negozi Team! Team! Da fuori ho fatto! Ogni cosa che ci circonda nasce da un sonda e vive! Ogni cosa che ci circondi è un sonda! E tu ammagra per i 24! Oh, non ha sempre il programma! Non ha senso, ragazzi! Hai capito la tactic! Guardiamo! Ma Gianmarco si è addobbato da solo? Adesso è il mio po' di ingola, gross de nepo! Di poco! Chiudo! 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 Io te lo prendo in bocca, hai capito? Pezzo di merda! Io dopo prendo e te lo succhio quel cazzone gigante che ti ritrovi! E ti manderò pure la foto del cazzo! E sai che lo faccio! Pezzo di merda! E poi dopo ci dovrai fare un cam tribute su quella foto del cazzo! Sì, te la stampi, ci sborri sopra e poi me la rimandi! E sai cosa farò io dopo? Io sborrerò sopra la foto che tu mi mandi! C'è davanti e poi in retromarcia, Zà! C'ho il calcro! C'ho il calcro! C'ho il calcro! C'è il tuo vero livello! Ma ci sono i guida, Bix, in mezzo alla mappa! Cosa, e poi dove devo andare? Dritto c'è anche il dritto qua! Anche il cazzo! Non teniamo la terremia con il cazzo del drittacanomo! Siamo morti! Porco! Ragazzi! Perché siamo un'altra canola a sega di tre? Siamo morti noi! Ho perso tutto, li prego! No, Gianco, andiamo di scia Gianco! Mannaggia Cristo! Mannaggia! Ho perso pure il checkpoint, porco di Dio! È finita per me ragazzi! È finita per me! Ma non c'era il turbo una volta! MERTURA! No ragazzi, ho col cane... Madonna, quanti mi stanno sparando!